Tornano a salire i nuovi casi covid nella giornata odierna dopo la riduzione delle attività di tracciamento della domenica. A salire sono soprattutto i tamponi effettuati circa 23.600 secondo il bollettino odierno diramato dalla regione Puglia di cui 5.315 risultati positivi al virus. Il tasso di positività risale e supera il 22%. 1.598 i nuovi casi in provincia di Bari 1.253 in quella di Lecce, 820 nel Tarantino, 631 nel Foggiano, 551 i nuovi contagi in provincia di Brindisi e 296 nella Bat. Il totale dei casi da inizio emergenza sanitaria supera 1.400.000 sul fronte dei decessi. Purtroppo torna a salire il dato giornaliero con oltre 12 vittime che hanno contratto il covid. Il totale sale a 8.833. Per quanto riguarda la situazione negli ospedali covid della regione i dati restano piuttosto stabili. 465 i ricoveri in aria non critica, 17 i pazienti. In terapia intensiva torna a salire in modo sensibile anche il numero dei negativizzati, circa 7.500 in un giorno. Un dato che fa scendere ulteriormente gli attualmente positivi ad oggi poco più di 53.000.